L'Italia che verrà, quella che farà scelte su come vivere, su come muoversi e sugli altri temi del nostro domani, è un obiettivo che parte oggi. Da qui, dalle tue risposte al Censimento 2011. Compila con attenzione il questionario, ci racconterai l'Italia di adesso e disegnerai quella che verrà. Censimento 2011. Dai risposte al tuo futuro.